salve a tutti avvicinati che non ti si inquadra non ti si inquadra nuova puntata it takes two quella scorsa abbiamo un attimo interrotta un attimo così perché poi siamo ancora in fase di combattimento di un boss che non ci stiamo capi capi comunque ho provato a spiegarglielo diciamo off camera diciamo che il fatto che c'è il braccio che passa rimangono dopo che il braccio passa rimane fermo con due cosi ci spara i chiodi e lei deve saltare con un fetto molleggiato col martello ecco è quello comunque e 3 2 1 via 3 2 1 via 3 2 1 va ok ok ora effetti ora evitiamo chiodi tu sei quella sinistra riparisco sempre ecco ok ecco ecco adesso ora dove dai no stavolta l'avevo visto ma comunque intanto intanto l'hai visto è già una cosa intanto l'hai visto bellissimo ora dobbiamo appena passa il braccio riotterci pronti ok no sbagliato no niente scusa qua non è non ho avuto la precisi ma fa subito e lo so è a ma preso ok vai no sbagliato vai no ho preso male perché l'ho preso male porto darmi l'ho preso male e che allora ok 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 ora uno dai eh babaro c'è eh troppo veloce eh effetti voglio capirlo un attimo la bu si ma ma chi ha fretta ahii eh 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 niente ok ma maronna mia troppo veloce sei tecflare eh bu eh eh veloce eh eh Ma Vai Vai No è però Perché dovresti fare tipo subito tazza Proprio senza dondo Guarda io mi sto fermando là in quel punto Con la speranza che non mi prende con i chiodi Allora Oh forse mi sto fermando E nel momento in cui passi il braccio salto Vabbè Vai un No Ok No Ok Vabbè Vai No C'eri quasi Ma ci hanno fatto complicatissima Ma bastardi Io non vorrei che Perché devi farla proprio veloce Veloce Proprio Arrabanzeno Ok Uno Dai Dai Ci sei arrivata Ok Credo che devi martellare su Sul 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 Coso Devi martellare Sui Lucchetti Dai Ok Un'altra volta Un'altra volta Ancora Sì Di nuovo No Madre mia No Vediamo No Aiuto Sarà più complicata Mi sa Aiuto Ah perché adesso buca Aiuto Adesso buca Adesso buca No Altre cose Quindi dobbiamo Adesso buca Attenzione Adesso cosa Eh Non ve Sì però così non ve Eh Che 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 E E Monello Così Allora Di dove metti I si chiudono Eh Come prima Solo che In mezzo ci sono Sti buchi Aia Dai Dai Vabbè Niente Niente Premi Premi Adesso Tira fuori Di nuovo La pistola Ah Bastardonna Ah no Aspetta Però adesso Non buca Te lo abbiamo fatto Evitare Adesso Trafiggio Direttamente Adesso Non Dobbiamo Solta Evitare Ok Ok Dai Ok Allora La Uno Due Dai tu Vai No Fa niente Fa niente Dai Fa niente Fa niente Mamma mia Fa niente Eh Ok Ah no qua Di nuovo Attenzione Ok Ok Hey Hey La tua Vabbè Babana Ok Io Ripporno Eh Vabbè Aspetta Premi 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 Tengo Ok Uno Due Vai Niente Perché purtroppo Vabbè Niente Ok Calma Adesso Mette la cosa Fai i giri Che rigiri Vabbè È sempre Meno tu mandi Trafiggio E I giri Che rigiri Ok Ok Ora Benissimo Ok La Eh Dai Però Vabbè Ho capito Vabbè Dai Prossima Prossima Ma Giusto Giusto Alla Eh Vabbè Ok Ora Di nuovo Ok E Giri E I giri E I giri Che La tua mammi E ci siamo morti No Eh Vabbè Mi Eh Ti parte dall'inizio Mi sa Dobbiamo fare Eh vabbè Dai Ho capito Com'è Ok Uno Due Sì Uno e due Ma Io Non l'ho capito Perché Vabbè Ma com'è Su Joypad Com'è Ma gira sola Ma chiamo Non salta Maria Che succede Joypad Si è incantato Di nuovo Questo rosso Ce l'ha Sta cosa Scusate Possiamo Riprendere Ok Ci siamo A posto Uno due tre Via Ok Ora ci sei Ti funziona Ma dove sono Sei sempre a sinistra Sempre quella Non cambia mai Sempre a sinistra Quanto è brutto Questo Joycon Non mi ci trovo Eh vabbè Diciamo Di concorrenza Ok Uno Due Due Dai Purtroppo Lei come Il personaggio Femminile Benissimo Ma che ne butto Perfetto Bravissima Ho capito Dai uno Due Dai Sì 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 Vabbè Già che Aveva Antipatico Su Joycon Mamma mia Sì Vabbè Ok Allora Dai Uno E uno due Ah mamma Perché però Purtroppo Lei tocca la parte Che di solito fa Quello che ha Più prontezza Di riflessi Ehm Aia Ecco Mi ma su Cosa è strano Però Vai Uno E uno due Subito 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 Perché devi Devesse proprio subito Cioè Come saltiamo il braccio Che passa Subito Devi puntare là Cioè Non è Non 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 è giusto Ok Subito Vai Uno Due Ma perché 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 tu vai Un pochino Io Io viaggio Sì A me piace viaggiare Siamo fermi Vabbè Ok Quando finire la zona rossa Uno No ho sbagliato Uno Due Ehm Niente Vabbè Uno due Vabbè Pummate Non ce la faremo mai Non ce la faremo E' su Joy-Con pure Che fa schifo No Tesoro mio Non è un Joy-Con Tesoro mio Sono io che faccio schifo No Non è che fai schifo Amore Amore cosa Ma tira Ma aveva buttato giù Tesoro Non è giù Ok Allora pronte Ok Uno Due Dei ricordarti che c'era quel tasto per agganciarti Che era con la R2 R2 Eh Porco canino Porco canino Ok Ok L'Accademia della Cruz Che l'ho brevettata Ok Brava io Eh vabbè Ripento Giro giro tondo Quante belle Voglio provare una cosa Tanto ne abbiamo fatti tanti Giri a vuoto Per una cosa da provare Aspetta Ecco Ok Ok No ho capito Ho capito Ho capito Ho capito Te l'hai premuto Te l'hai premuto Saltavamo sempre un passaggio Dai Sai dai che cosa Ti spiego Ora io Noi saltavamo un passaggio Che prima dovevo fissargli il braccio lì Ah Certo Oh E ho fissargli il braccio lì E quello è il discorso Perché poi è troppo veloce Saltavamo un passaggio noi Ecco Però tu Ah no Ecco Ora Sì ora Ah sì Ma sei veloce però Devi essere Sì Ma allora Allora Una volta che fissiamo il braccio Gli fisso il braccio Non c'è bisogno Che dovesse così veloce Prima fissi il braccio Ho capito La prima volta che pianto il chiodo là Gli fisso il braccio E lui Passa più tempo prima che si muove Allora Uno E due Dai Dai Ok Martella Martella Però non a terra Oh Perfetto Oh Perfetto Ora quello ti Ti impaletta E ti scatapulta Ok Però adesso sappiamo sta cosa Che Adesso già è molto meglio Adesso Cosa è Il dettaglio che ci mancava Scusatemi Gli sfoghi Ma ci sta Ora attenzione Che adesso questo Fa i buchi Fa i buchi I buchi I buchi Non balla No ci fa ballare A noi Non balla lui Ci fa ballare Ci sta facendo ballare L'acqua No No Stranzino No La Non morire Non morire Non morire Non morire Non morire Ok Ok Cos'è Ok Ora Ti va di nuovo Braccio Passa il braccio Io glielo fisso Ok Uno Non mi ha fatto sparare il chiodo Perché Ah perché uno L'ho perso Vabbè niente Ok Vabbè di nuovo Di nuovo Siccome uno Certo Uno fu un preciso Vabbè Con calma Ok Ehi 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 Non morire Vabbè di nuovo Ok 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 Ora Vabbè Vado il braccio Ok Ma porca Ti sei messa in mezzo Tesoro Io stavo Ti sto fissando il braccio Ti sei messa là Davanti Preciso A posto Perché non me lo dici Spostati Tesoro Perché io Devo andare subito Velocemente Infatti Vado un triangolo Ma che caspita è Tesoro Perché ti sei messa All'ultimo Amore non morire Amore non morire Eh vabbè Dimmi Non vuoi morire Ti ho detto di morire È vedato Eh no Gioia Ok Ok comunque Ci siamo Adesso abbiamo Dele informazioni In più Tu una volta Che lo eviti Oh Allora Aspetta Ok L'altro Ok È pronto E adesso E adesso Gioia E ecco A posto Io Caputo E Ale No perché se martelli a terra non fai niente tesoro Devi martellare Io Acco picchio picchio No Picchio picchio No C'è nudo Un picchi nudo Gioia C'è Ok comunque Adesso Arriva I buchi Comunque La prima fase Ormai siamo La prima fase Ormai siamo professionisti Esatto Adesso c'è Adesso c'è la seconda fase La possiamo fare A 100 volte Ok No io non la vorrei Per rifare Aia Ok Non morire Non morire Non morire Non morire Dimmi non vuoi morire Io porca di quella Ok Adesso Ok Io mi ciò qua Così Ok Ok L'ha il braccio Però Tu salti sempre In ritardo Oh Aspetta Uno Due Dai Stavolta c'era il chiodo Stavolta il chiodo c'era Tu salti sempre in ritardo Dai Non tanto proprio Stavolta il chiodo c'era Aspetta Eh Aiaiaia Eee Ci sono Allora Ok Ok Ora Ah Ok Uno Ah Vai Mamma che Come Gioia Gioia come Fai Devi saltare dritto Tesoro Gioia mia Il mio cuore Come fai Devi saltare dritto Ma Ma A quel punto La cosa è facile Devi saltare dritto Non è che Devi Devi saltare dritto No Non correre Non correre Mi Do 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 Se giro è meglio Ok Allora Ora Attenzione Sta arrivando il braccio Sta arrivando il braccio Cura il braccio Ok Allora Fissato Poi Ah Ah Ma Puoi aspettare Prima Prima salti mezz'ora Prima saltavi mezz'ora dopo Adesso salti che ancora Devo pensare Di mettere Aspetta 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 che tu ricordo Che ti ho piattato Ok Che lo metti Aspetta Allora Allora Aspetta E la E no 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 Ok Già appena in tempo Appena in tempo Ok Appena in tempo Ok Allora Attenzione Arriva Aspetta Ora si Ora si Dai Ok No Ecco Perfetto Perfetto Oh Benissimo Benissimo C'è un'altra cosa Ora ti spaletta No C'è un'altra fase Ti prego Sì E vabbè Ok 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 Mi sento male Aspetta che ora Aspetta Quello che c'è una bombola Si incazzò Eh sì E qua Aiuto La paletta La paletta Non ci dobbiamo fare Spalare Allora Ok Non ho capito Allora Ah che Ma che cosa fa questo No Deve soltanto non prenderci Poi a un certo punto ci sarà un momento in cui Dovei martellare sulla cosa gialla Senza cadere Senza cadere Ma non è coppa mia Ok Ok La cosa gialla Ma non è la cosa gialla Eh poi ti dico Ah no Sì Qua era Io Ok 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 dai Martella Martella No Che cu Oh Oh No Ok Ok No Non cadere Non cadere Non cadere Non cadere Non cadere Non cadere E i chiodi E quelli ce li sono sempre Perché Perché attrezzare Mi taglia pure Ora Taglia Perché adesso Adesso fa Adesso fa E dove fare Aspetta Tanto dobbiamo evitare di farci prendere Ok E che adesso giustamente limita Per Limitare La raggio d'azione Diciamo Ok La miseria Sì Allora che deve fare Ok Aspe calma Cura Ok Aspetta Ok Allora Ok Ah dai Martella No Oh sì Maria Che stai facendo Posso Eh perché ogni volta cado giù io Ma Porto Darmi Ma non l'ho preso Sì Non l'ho fatto tutto giusto Io l'ho anche preso Però dovremmo farlo tante volte Gioia Ma 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 Dovremmo farlo tante Maria ma quando finire Eh Eh tesoro È un po' ci vuole tesoro Eh Minchia Secco Tutte lui Preciso Preciso Double Signori Allora Però per fortuna Ecco Perlomeno La prima fase Non la dobbiamo rifare La prima fase Non la dobbiamo rifare Ok Almeno Guarda Non rompere Puoi fare la schivata Con quadrato A un certo punto Ah ok Ok È rotto È la pul Sì Pampà preso Con lo bastone Tu c'hai la mamma Ok Ah Ecco Ok Ora taglia Ora taglia Sta camurri Ora taglia Comunque ci siamo Ci siamo Ma tu non puoi fare niente Questa volta Guarda ma No no Che fai Con i chiodi tu No Sì No Quando mi scatapulti Siccome c'è una bomboletta Tipo spray Che c'è finito sopra Ah Quando mi scatapulti Io gli sparo Una bomboletta spray Capito Ah È quello Il mio Il tuo spararmi In the sky Mi serve a questo Ah Ok Ok Ah perché se non facciamo veloce Moriamo Ok Allora Aspetta È bosta Mamma mia Ok Allora Aspetta che qua Arriba il Quando mi pighi tutto il ruolo No 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 Ok aspetta Aspetta Arrae No Aspetta 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 No 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 Niente Niente Eh vabbè a certo punto Non taglierà più Penso Penso Volevo penso Oh È fanticosamente Ok Ma perché Ma perché Ah però Camurri Perché Cado giù Ok Aspetta 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 Vai Ok Niente L'ultimo colpo C'è l'ultimo colpo Per fortuna Adesso non Fa più Ok Ok Dobbiamo solo evitare di Farci prendere Amore 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 Aspetta 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 Vai Ok Ce l'abbiamo fatta Forse Basta Giusto Penso di sì Non ho un dettivo vero Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Penso Spero Credo C'ha C'ha Fusmos Tutti insieme Sono Ma chi è un biustel Ma è un martello Il bastone del martello Tesoro Tesoro Gioia del mio È il bastone del martello È la parte Il manico del martello Tesoro Oh Si è ricomposto Si è ricomposto Oh Vai Che bello Ti petteggia Oh Vai La rugine della Oh Grazie Mei Ah Ok Certo Che cosa Mamma mia Ah beh Allora Catapulta Sicuramente Sicuro Dobbiamo salvare Alla Ti prego Non è che Dovamo salvare Dovamo andare a parlare Ci devo andare a parlare E lancio Yeah Ci amo E La lero Ok Dai Stai andando E Rose non li sente Il libro È sempre il libro Dell'amore È È Amore Ah Ah Esatto Ah Si va la finezza Però aspetta Io Io dopo tutta No Fai Fai Ma Gio Io volevo chiudere La puntata Ah Tesoro Ma Bavina Ma E vabbè Che va a fare Perché Perché Bion Non me lo salterà Non Salverà Misa Sta parte E E Vabbè Vabbè Non si ferma più Vabbè vita Amore Che devi fare E no E oramai Ah io Già sono qua Vabbè Ah fermi Perché Abbiamo registrato Abbastanza Poi Dovrò Montare tutto Signori Io Per oggi Siamo riusciti A sconfiggere La Cassetta Degli attrezzi E Ce l'abbiamo fatta Qualche maniera Qualche maniera Ce la si fa E la forza Dall'ammare E ce la si fa La forza Dall'ammare Allora Detto questo Signori Noi ci salutiamo Qui E sperando Che non ci siano Tre zone rosse Di mezzo Mamma mia Infatti Ci vediamo appuntamento Alla prossima Alla prossima Ciao Ciao